ciao benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a vedere questo semplice riflettino dei beatles molto bello molto divertente come al solito le parti di paul mccarney sono sempre veramente belle perché sono molto melodiche molto spesso non sta sempre sulle frequenze bassissime ma va a lavorare anche melodicamente un po più sugli acuti ed è questo il caso di Irkandesam dei beatles appunto lo prendiamo dal mio metodo ebook basso batteria che se vuoi puoi trovare sul mio sito lo trovi qua mi raccomando usa il codice basso batteria per pagarlo soltanto 10 euro più iva anche con paypal avrai questi 20 riff di canzoni molto belle dove andiamo a prendere soltanto il riff principale e lo andiamo a vedere bene mischiato al suono della batteria quindi avrai già visto magari negli altri video dove c'è un video dove spiego nota per nota il ritmo il tempo e tutto c'è un video dove c'è la griglia della batteria che scorre in modo che anche visivamente puoi andare a incastrare il suono del tuo basso insieme soprattutto alla cassa ma in generale contare bene come funziona la batteria per suonarci sopra insieme e poi sopra c'è la partitura con la tab qua abbiamo comunque note molto semplici quindi vedi è un la acuto andiamo a prendere la tasto 7 della corda di re attenzione più che altro al ritmo qua perché abbiamo appunto dei levare quindi questo punto qua è il punto un pochettino critico perché noi abbiamo la nota in levare però lei poi dura 1 e quindi va a finire nel battere del quarto quarto e quindi devi farci un pochettino attenzione anche se con la base è tutto molto intuitivo ed accompagnato soprattutto dal suono della cassa quindi non dovresti avere problemi quindi dopo la andiamo a prendere il re anche qua stesso ritmo il puntino sopra vuol dire che questa nota la andiamo a interpretare un pochettino più staccata invece di ta 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 invece che lasciarla lunga 1 la stacchiamo un pochettino ultima battuta in mi 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 sol diesis mi sol diesis è la terza maggiore quindi va a giocare con il sol diesis come nota di passaggio e poi per ritornare in la come base qua ne abbiamo 128 che è la velocità più o meno originale 110 per poterti anche esercitare un pochettino più lento proviamo a suonare un po' insieme nella base parte anche il basso poi a un certo punto va via ti lascia esercitare per alcuni minuti di fila proviamo a andarla a vedere cambia mi e riparti prova a farlo un po' tu vedi che qua il basso è andato via senti sempre bene la cassa fa le tue note nello stesso tempo quindi appoggiati sul suono della cassa appoggiati e soprattutto divertiti con questo bel riff poi puoi andare a cercarti l'originale e provare a suonarci sopra grazie per aver visto questo video mi raccomando basso batteria vallo a cercare sul mio sito sono 20 20 rif quindi sugar come as you are l'uomo più furbo whatsapp so lonely crazy little thing love eccetera eccetera ce ne sono tante dei rif soprattutto molto divertenti con con il basso ci vediamo al prossimo video grazie ancora e ciao a presto grazie a tutti